Russell Crowe ha finito i soldi. Il celebre attore di origini neozelandesi si è inventato un modo insolito per riuscire a pagare le spese del divorzio dalla moglie Daniel Spencer. Organizzare un'asta per mettere in vendita oggetti e cimeli cinematografici raccolti in un'intera carriera. Sì perché di strada ne ha fatta Crowe, dalle soppopera all'interpretazione da Oscar del gladiatore di Ridley Scott. Visibilmente ingrassato, barba inculta, si rivolge al pubblico in sala. Vi state almeno divertendo? Anche il titolo dell'asta è una provocazione, The Out of Divorce, l'arte del divorzio. Si è tenuta il 7 aprile da Sotheby's Australia, non una data a caso, bensì il giorno del suo compleanno e l'anniversario delle nozze dell'attore. La Crowmania ha fruttato 3 milioni di dollari americani, con soddisfazione dell'attore che è riuscito a sbarazzarsi quasi di tutto. Dal carro alla corazza del gladiatore, fino alle chitarre e ai gioielli regalati dalla moglie e forse anche di un pezzo di vita.